A Bruxelles centinaia di persone si sono radunate davanti al museo ebraico per commemorare le quattro vittime dell'attentato perpetrato un anno fa. Bruxelles è città ebrea perché tutti gli ebrei hanno un posto a Bruxelles, ha detto il sindaco durante una cerimonia di omaggio alle vittime in presenza del premier Charles Michel.